L'ex direttore dell'entirrigo Umbro Toscano Diego Zurli e l'ingegner Stefano Cola andranno al processo. E' questa la decisione del gruppo del Tribunale di Arezzo Giovanni Fruganti in merito al disastro di Montedoglio. I due imputati compariranno davanti ai giudici il prossimo 10 luglio. Il reato contestato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi è disastro ambientale aggravato. Era il 29 dicembre 2010 in Valtiberina quando vennero giù i conci che sul lato sostengono l'impianto. L'acqua dell'invaso si riversò così nel Tevere provocando la piena e i conseguenti allagamenti. Una notte di terrore per la vallata e per l'intera provincia. Il cedimento avvenne durante la fase di collaudo con il riempimento dell'invaso. Zurli e Cola adesso rischiano una pena che va dai 6 ai 12 anni perché il disastro ambientale è aggravato.